Amiche, finalmente siamo di nuovo con Erika Gottardi, direttrice di Woman in Bride, ormai un'amica di HTO. Ciao Erika e bentornata su HTO. Ciao Michela, grazie a te, insomma sono felicissima di essere di nuovo su HTO. Grazie per aver aderito e per averci concesso anche di essere qui stasera perché dobbiamo naturalmente ringraziare te. Erika, ormai per lei la solidarietà è come se fosse la sua seconda pelle. Sì, decisamente, non si può non aderire a questi progetti quando c'è di mezzo non solo uno scopo benefico, perché sai oggi di eventi benefici ce ne sono tanti, no? Poi bisogna anche capire, selezionare veramente quelli più giusti, quelli più veri, purtroppo alle volte accade anche questo. Poi, beh, chiaramente qui c'era di mezzo Anthony Pet, carissimo amico, che mi ha coinvolta. Sono onorata di essere stata coinvolta da Anthony in questo progetto che reputo veramente pazzesco, meraviglioso. E' molto importante quello che stanno realizzando. Quello che sta accadendo stasera è un miracolo, è veramente un piccolo grande miracolo. Di persone che sicuramente le telecamere di HTO avranno ripreso e riprenderanno questo teatro che si sta riempendo per l'associazione Fabrizio Procaccini e per tutto il grande progetto che c'è veramente alle spalle. Quindi onorata e veramente felice di essere qua. Poi quando si parla di bambini? Beh, ha maggior ragione. Sa, io sono un po', non dico una mamma mancata perché nonostante la veneranda età non sono ancora mamma, però ho due meravigliosi nipotini e per me i bambini e gli animali sono in assoluto al primo posto. Sono parte del mio cuore, quindi mi colpiscono direttamente al cuore. Quindi soprattutto quando si parla di bambini io sono in prima linea, sempre. Naturalmente veneranda età l'ha detto così perché poi adesso vuole che io le dica, non è vero veneranda età, sei giovanissima perché è giovanissima, quindi diciamo veneranda età a te, insomma tutti gli altri, insomma tutte le altre belle signore che anche abbiamo visto qui stasera, insomma devono iniziare a preoccuparsi. Non credo, mi vuoi bene Michela, è come sempre, mi vuoi molto bene tu. No, voglio bene ma sono anche realista, dico la verità, insomma quindi riesco ad essere oggettiva, riesco ancora ad essere oggettiva. Secondo me sai cos'è? È che si corre tantissimo, tu poi mi capisci, noi siamo praticamente colleghe e passi la vita a correre, la giornata a correre, quindi secondo me è quello il modo, il metodo migliore per rimanere assolutamente in forma e sempre giovane perché insomma vivi la vita in velocità quindi è verissimo di così. Poi io veramente sono arrivata qua di corsa, mi preoccupavo della misa, mi preoccupavo del vestito, prima ero in camerino, mi guardavo e dico oddio che capelli perché diciamolo, perché tanto poi è quello che tutti pensano. Poi mi sono guardata bene e ho detto sono qua per un motivo meraviglioso, sono qua veramente per omaggio, per rispetto e per amore verso questi poveri piccoli che soffrono e che meritano il meglio, meritano veramente il meglio, meritano che mettiamo mano alle tasche e al portafogli. Quindi sono veramente onorata. Anthony mi ha voluto come responsabile moda, quindi ha voluto che io selezionassi, scegliesi, quindi pensa che responsabilità infinita. Guarda se non lo fai tu, sei direttrice appunto di Woman and Bride, se non capisci tu di moda, allora tutti gli altri non possono fare niente. Penso che Anthony abbia scelto la persona più giusta, più indicata per questo. No, 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 assolutamente, io non amo mettermi in mostra, non amo essere presuntuosa, penso che ci sia sempre tanto cuore nelle cose che si fanno, ci sia tanta emozione e soprattutto il lavoro, tutto ciò che facciamo, le attività che facciamo ogni giorno devono essere fatte col cuore. Anthony ragiona con il cuore, forse per questo che ci troviamo d'accordo e ci vogliamo un mondo di bene. Ragioni anche tu con il cuore. A proposito, Woman and Bride, due battute, dove possiamo trovarlo? Woman and Bride fra un pochino, io lo so che ormai fremete perché questo è il periodo in cui siamo lì, Woman and Bride sta per uscire ma dovete pazientare ancora qualche giorno, diciamo quasi un mesetto. Poi io non so se si vede dalle mie cosmiche occhiaie, sono a ridosso delle produzioni fotografiche che stanno per iniziare questa settimana e si prolungheranno fino alla prossima, quindi lavoro decisamente impegnativo e la produzione fotografica è un po' quasi la conclusione del numero di Woman and Bride, quindi a brevissimo ci siamo. E non possiamo dire le location? No, mai, assolutamente, no 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 no, si può dire un pochino, un breve accenno allo stile, diciamo che andremo questa volta sempre nell'ambito di una determinata eleganza, per un minimo insomma che ci compete, però uno stile vagamente country, quindi usciamo un po' dagli schemi. Poi come avevo accennato nel nostro precedente piacevolissimo incontro abbiamo inserito anche il Pret a Couture e quindi, e anche il Pret a Porté, quindi mi sto anche divertendo con jeans, cappelloni, insomma vedrete. Sarà sicuramente bello da sfogliare, da poter vedere. Invece per quanto ti riguarda sappiamo che si stanno avvicinando degli appuntamenti importanti? Sì, si stanno avvicinando degli appuntamenti importanti, l'altra volta avevo lasciato con un appuntamento che era il 10, l'appuntamento del 10 sembra abbia avuto un esito largamente positivo, quindi ora sono in attesa per fine giugno, mi vedrete? Noi speriamo di esserci anche per fine giugno, sappiamo dove devi andare e chissà, chissà, chissà. Direi di sì sempre accanto a me e io sempre accanto a voi e ai telespettatori e al pubblico di HTA, ai quali posso mandare un grande bacio? Grazie a tutti!